Con Estra e con Giulia soprattutto si tengono alti i colori di Arezzo, ma non solo, però nel nostro territorio qui si pensa alle Olimpiadi. Estra ha deciso di sostenere il progetto di Giulia Capocci perché è una bellissima persona, è un esempio per lo sport, ma anche per il coraggio e la determinazione che ha avuto una ragazza che sono malgrado, dopo una rara malattia, costretta alla sedia a rotella, ha deciso un bel giorno di dire a mamma nel divano non ci sto più, torno a giocare a tennis. Ha un sogno che sono le Olimpiadi di Tokyo 2020 e una società come Estra che alla fine è di proprietà dei cittadini perché i soci sono i comuni, è giusto che sostenga un bel esempio sportivo come Giulia. Quindi siamo fieri e orgogliosi di sostenerla fino alle Olimpiadi 2020. La stagione è iniziata da pochissimi mesi perché è iniziata a febbraio e ho già avuto dei buoni risultati perché ho fatto tre tornei di cui uno in Inghilterra, uno in Svizzera e uno qua in Italia. In Svizzera ho fatto semifinale dove ho perso al tie break del terzo contro la numero 5 del mondo dopo una partita molto lottata, più di tre ore. Invece gli altri due tornei, sia quello in Svizzera che quello qui in Italia a Cuneo, li ho portati a casa. Quindi diciamo che in poco tempo ho già cominciato a scalare in modo molto importante le classifiche. Infatti questa settimana sono 20 al mondo in singolo e da 32 partivo all'inizio dell'anno. Quindi diciamo che promette bene, dai! Allora Arezzo è con te, in questo caso con Estra, lanciamo questa sfida al Presidente, vai! Sì, vabbè, Presidente, quando vuole io sono qua, senza problemi. Vince facile! Insomma, buon lavoro e in bocca al lupo si dice così. Sì, crebbi, grazie! 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 Grazie!